Con regola ho sbagliato sulla data del dipinto di Monet 1878 e il dipinto di Jones è del 58, quindi quasi un secolo li separa. In questo particolare si nota bene nella trasparenza il newspaper sottostante la pittura d'encausto e quindi potremmo dire che questo è ancora il sentimento teorico neodata per Jasper Jones. E allora per Monet la grande modernità anche di questo dipinto è dovuta al fatto, come abbiamo detto, riguardo al testo di Rosalind Krauss della rivoluzione dei medium, che l'utilizzo del colore ready made della tela commerciale fondo bianco è recuperabile nei più prestigiosi negozi di articoli da belle arti parigini. Mentre paradossalmente per Jones tutto è costruito all'interno del proprio dipartimento tecnologico, all'interno dello studio. Jones è ancora uno di quei pittori che lavora in studio senza assistenti e questi due dipinti straordinari da poter approfondire.